State vedendo uno scorcio di Piazza Duca che era lo storico traguardo del trofeo Matteotti di ciclismo che purtroppo quest'anno, quest'estate, non c'è stato per motivi economici. Ebbene ci sono però delle buone notizie perché dall'anno prossimo il trofeo Matteotti di ciclismo tornerà nuovamente protagonista qui in Piazza Duca, quindi a Pescara. Questa mattina c'è stato un incontro tra l'assessore regionale allo sport Carlo Masci e il patron Ricci, il patron della corsa ciclistica e quindi le cose si sono finalmente sbloccate. Abbiamo raccolto sollecitazioni che ci venivano dal territorio, c'è la necessità di fare in modo che questa gara che è una classica ed è la più importante classica abruzzese, una delle più importanti d'Italia, possa continuare il suo percorso e su questo siamo impegnati tutti gli enti affinché si possa ottenere già dall'anno prossimo una manifestazione di livello internazionale. Stiamo ragionando con il patron del trofeo Matteotti Ricci e quindi sicuramente troveremo quelle soluzioni necessarie affinché si possa organizzare una manifestazione importante come nella tradizione del trofeo Matteotti. La gente si chiede, ma che cosa è successo allora? A me non piace parlare del passato, non mi piace fare commenti su chi mi ha preceduto. Credo che Ricci si sia espresso in maniera chiara sulle responsabilità che non dipendono da questo governo regionale, anzi questo governo regionale ha cercato in tutti i modi di contribuire affinché la manifestazione si svolgesse anche nel 2009, purtroppo non è stato possibile perché il tempo a disposizione non ce l'ha permesso, però l'anno prossimo ci saremo e ci sarà l'impegno della regione.